Ciao a tutti da Gianluca Tanasio, da Capitano America e da OK. Oggi presentiamo un prodotto davvero molto utile in particolare per chi è spesso in viaggio, per affari, per piacere, per vacanza. Questo dispositivo non vi lascerà a piedi perché parliamo di un carica batterie da appartamento, da rete, portabile in albergo e in ogni parte del mondo. Parliamo di ricarica tecnologicamente avanzata per tutti i tipi di telefonini. Partiamo dalla certificazione Qualcomm Quick Charge 3.0 che consente di caricare telefonini ad alta velocità ma ha anche un sistema di ricarica iPower autoadattativa, quindi si adatta direttamente ai dispositivi che si intende utilizzare. La compatibilità con Quick Charge 3.0, parliamo di HTC, Samsung S7, S6, LG, Xiaomi, Samsung S6, Edge Plus, una serie di dispositivi che si adattano benissimo perché all'interno c'è un chip di controllo della ricarica, ma passiamo a vedere all'interno della scatola cosa c'è. Capitano America ha un pochettino di spazio, dalla scatola che già ho aperto ho testato il prodotto, ecco il nostro caricabatterie che si porta in viaggio a OK. Nella parte posteriore abbiamo l'inserimento del cavo di ricarica che è in dotazione, eccolo qua, che andrà a inserirsi direttamente qua, vi faccio vedere, e andrà all'interno della presa di casa. Anche in dotazione un cavo di ricarica USB, micro USB, ma poi ci potete attaccare anche un USB USB-C, potete decidere voi a secondo del cavo che utilizzate il vostro telefonino, nella parte anteriore abbiamo ben 6 uscite per la ricarica, si possono ricaricare contemporaneamente vari dispositivi. Parliamo della Quick Charge 3.0 certificata Qualcomm, ricordiamoci la certificazione che è importantissima, sono le porte di colore arancio, mentre le power autoadattativa di colore verde, c'è segnato anche lateralmente, sono poste nella parte superiore e sono ben 4, quindi con questo sistema potete di caricare tutti i vostri cellulari, ma non solo, anche i tablet assolutamente funzionano benissimo, assolutamente, la corrente rogata, ad esempio per l'iPower, arriva fino a 2.4 ampere, quindi una carica imponente che riesce a recuperare velocemente i vostri telefonini, mentre invece la certificazione Qualcomm, assolutamente compatibile con le altre certificazioni 2.0 1.0 è fino a 4 volte superiore alla Quick Charge 2.0, quindi ricarica totale. Per tutti i tipi di telefonini parliamo di, ecco, Microsoft Lumia 950, che è proprio all'interno del processore Qualcomm, ma anche ovviamente Samsung S4, c'è la retrocompatibilità, Samsung S6 e S7, è tutta una serie di dispositivi. Quindi questo prodotto è possibile portarlo in viaggio e dà la possibilità di portare un solo prodotto per tanti dispositivi che si intende caricare. In questo caso, con questo, io ci ricarico anche le batterie della mia GoPro che porto sempre in giro, quindi da OK, da Gianluca Attanasio, chi volesse iscrivervi può farlo a Gianluca.attanasio.it, modello piatti 11, per voi questo modello è vinta su Amazon con Spezia Prime, ad un prezzo davvero interessante, siamo sotto i 30 euro, non comprate niente con questi soldi, nemmeno su una bancarella. Quindi da me è tutto, un saluto, ci vediamo alla prossima recensione, ciao ragazzi!